un esatto sedicente esatto approvo quello che dice sedicente ha ragione smettetela di insistirlo stronzi che fate giocare un indie vecchio di cinque anni cazzo ha cinque anni sto gioco eh no che non c'è la chat su questo questo odio usarlo ma manco questo prende il gioco ma che cazzo no eh no niente neanche questo ma si può trasmettere sto gioco eeeh e ora boh provo a mettere window web vediamo ma non esiste no si si esiste vediamo se così lo prende eeeh 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 Niente. Non si può catturare la finestra di sto gioco. Non ha senso, è impossibile che esista un gioco che non si può catturare la finestra. Proprio con il fullscreen, ma con il fullscreen dovrebbe essere peggio. Eh, con il fullscreen crasha, ecco perché era il fullscreen a far crashare. Niente, il gioco va, non va... Non è colpa mia, guys. Non prendere la finestra. Eh, fai qualcosa tu, io avrei continuato benissimo a run, adesso non lo so proprio. Comunque è stranissimo, è impossibile che ci sia un gioco che non riesce a catturare la finestra, dai. C'è qualcosa di insano in tutto questo. Ah, ho entrambi gli hops aperti, entrambi non riescono a prenderla. Ovviamente uno ha solo l'anteprima di stream, non è online. Boh, forse se avvio il gioco lo prende, non capisco perché, però vediamo. Se c'è gente che l'ha messo su YouTube vuol dire che la finestra gliel'ha presa. Potrei fare il cattura finestra normale, ma laggherebbe. Non questa. lagga a merda se faccio così. Perché non è finestra in game. Vediamo. Perdo il frame. No, sembra andare bene in realtà. Sembra andare bene. Bene. Com'è la qualità? 7,20. Mettiamo pure 7,30. Era normale quello del gioco. No, in realtà non sta laggando il gioco. Oh, mi sembrava da bene. Va bene, dai. Ce l'abbiamo fatta. Aspettate che si stiamo le finestre perché lo stops è un casino. è il gioco di Shader Island. No, è un gioco della minchia in realtà, però vabbè. Vabbè, per essere un indie è carino anche questo. Poi questo è pure gratuito. che c'è da l'ho faiare. Ehmili 2 Che bella animazione per la camminata Mamma mia Qualcosa di bellissimo Dottor Quindi a quei tempi si chiamavano giochi come tutti gli altri Comunque ci si per aver finito eh Miri Ecco ho sentito che era un casino No in realtà no Devo essere sincero non era così impossibile Dopo aver imparato il trucco lo fai easy Minchia si è fatto da un audio Non vedi che c'è C'è Joel Nathan Ellie Tutti qui Però è vero che lagga un pochino eh Pochino pochino però non tantissimo Cos'è sta roba qui Eh fammi vedere gli fps Ok questo è solo in fullscreen quindi non cambia niente Bene Bene La gamma Così Questo qui devo diminuire Ok Sembra che laghi di più Che è successo Cosa ho fatto L'ho fatto laggare di più Oh mio dio Cosa ho fatto che l'ha fatto laggare di più L'anti-aliasing No Questo No Non cambia più un cazzo Vabbè Forse perché ci sono più modelli Vabbè presto non ci saranno più Il nano buggato si è fastidioso La bambina no in realtà mi sono sbagliato eh Perché riguardando il video la bambina si sente in realtà Però Non mi era accorto che mi stava inseguendo più del necessario No sto partendo anche frame in realtà No avevo detto La piattura finestra non funziona bene That's Papa That's E Il oh ok allora per chi non lo sapesse il mostro o quello burlutto che abbiamo appena visto no ma comunque non stava laggando così all'inizio dai cos'è successo e vedi che si sono rialzati aumentando i ma che senso ha che senso ha che aumento i dettagli gli fps vanno meglio deve essere il contrario wow questa è nuova questa non l'avevo mai vista e beh io coglione sapevo pure che si elitrificava ci sono passato lo stesso ovvio è durato tantissimo questa run allora no no schippa l'intro da sta qua seria beh ho messo difficoltà a Ketter che sarebbe massimo oh no si è bloccato mentre è morto non è colpa mia che stai dicendo uscendo che stai dicendo sono morto uscendo sono andato sul campo elettrificato quando muori devi ripartire da capo no no in realtà c'è il save ma in realtà c'è il save ma prima non era chiusa vedi vedi che cambiano sempre cambiano ogni volta che muori quindi si rifà una nuova mappa e tutto cambia tutto quanto quindi ora la tizia che ripa non la rivedremo fa il mostro fa un due tre stella è come la bambina di emily want to play comunque c'era proprio per salvare come si salvava e anche quando chiudo gli occhi perchè vedete c'è la vista in basso mi ha inculato di grosso mi ha inculato tantissimo vedi che c'è l'hot gain quindi si può salvare questo è wantino questo è wantino adesso che fa la run vediamo quanto resiste wantino questo è un vero survival altro che rust perchè il paragone con rust era partito un auto host prima eh ma si ma ero in una stanza chiusa wanty e ce l'ero stavo al centro e c'erano tre porte erano tutte chiuse da dove cazzo è uscito fuori ok e questo è sempre più ancora chiusa ma comunque non va oltre i 30 fps sto gioco ho fatto massimo 30 ma ero qua qua mi ha ucciso ma è tutto chiuso dove cazzo è entrato cioè lo so che può aprire le porte ma si sente quando le apre paura cazzo attenzione all personale report 2 immediately ok ok a key card non c'ero pollo parteria non so cosa batteria documento scp 173 che è lui l'objet cannot move while within the right line of sight finché lo fisso lui non si muove è classe euclide non è neanche keter questo qui è ancora presto potenziali con riscappato il nemesi ma qui non si scappa se scappi ti in cura 148 a non lo so comunque tessera livello 1 abbiamo e la maschera no vabbè mettiamola quando servirà no io non scendo lì sono appena morti posso salvare ma qua non c'è niente via 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 è dentro sta stanza proprio la maschera possiamo entrarci eh dovrei scappar via da qui dove mi trovo mi trovo nella fondazione degli scp è una cosa tipo creepypasta eh dai ma dai ho distorto lo sguardo un secondo comunque la porta era davanti a lui come faceva ad evitarlo niente guantino non è durato tanto vediamo quanto dura shadow tvb guantino eh lady spiegagli in breve cosa sono gli scp se puoi sono durato pur sempre più di te eh ma quello non era il vero mera era un clone era solidus vediamo shadow come si muove shadow è stato un po' stupidino perché è rimasto lì nella stanza col mostro vediamo cosa combina adesso quanto è brutto però io comunque quindi questa scena non dovrebbe uccidermi ecco parte sempre dell'intro che poi l'avevo già trovato la carta di livello 1 non mi capiterà mai una roba del genere ok questo era già successo però noi eravamo arrivati da lì l'altra volta no 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 via 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 ok card, niente. No, 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 no. Oddio, non era attiva la trappola stavolta, meno male. Ok, ora qui. E' un bicchierino. Empty cup. Questo mi sa che è un altro SCP che potremmo incontrare, è pure Ketter questo. Imita... Imita gli umani, la voce... ok. E' più pericoloso? Non lo so, però vanno a gradi. Ci sono i safe... che in teoria sono quelli lì che non dovrebbero danneggiare gli esseri umani. Poi ci sono gli Euclide che sono... tra i più pericolosi in realtà. Che sono quelli lì che... che non sono portati per far del male e che però potrebbero farlo. Più o meno. Dovrebbe essere così. Poi ci sono i Ketter che sono quelli più aggressivi, quelli attaccano e basta. Ketter è la classe peggiore. Poi ci sono... ce ne sono altre classi tipo i... decommissionati che mi pare siano gli SCT che sono stati distrutti perché troppo vericolosi. Cosa ho trovato? c'e ma stiamo girando in tondo facciamo in un loop ma qui siamo venuti noi no, come è chiusa cedo, non tradirsi, ce la puoi fare no, cazzo no, siamo tornati qui fegni sta radio ma sono normali fonte di vita cedo è come se racchiudessero tutti gli oggetti mostri paranormali che esistono nel mondo ogni essere ha qualcosa di speciale oggetto pure non è detto che siano sempre mostri eh, vabbè, ma io sono bloccato qui l'unica via è quella mi sa che shadow ha esaurito la sua dose di fortuna gg shadow si può anche aprire le porte per questo mi giro ma qua ci siamo già stati proviamo la keycard adesso no, non va bene questa ce ne serve un'altra non è anche qua ma dai ma siamo davvero tornati qui? cioè, ma io tra tre porte che ci sono scelgo sempre quella da cui siamo venuti anzi, quattro porte vedi, questo è scp914 è safe se vai nella wiki lo trovi c'è tutta la descrizione delle scp914 credo se le hanno tradotto dipende perché sono tantissime nessuno è mai riuscito a tradurli tutti oh, finalmente una ha funzionato chiudi però chiudi guarda come si muove le braccina quando chiudo gli occhi vuol dire che cerca di venirmi incontro provare un po' perché è chiuso lì che cazzo era quello? ci sono due scp più uguali può darsi che abbia una lettera pure è un'altra tessera livello 2 ok questa è la livello 1 sta uscendo sta uscendo no 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 cazzo dov'era livello 2 adesso qui 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 io ho visto l'ombra di chiactus ah minchia mi ha inquietato tantissimo non ha fatto neanche rumore stiamo per liberare un scp sono pieno mi sa davvero anche i medici c'erano questo fosse un troll butta gli documenti ma ancora non si può salvare forse se provo a quittare mi fa salvare oh riproviamo qui eh no ma non faccio in tempo a entrare che devo fare qui? oh riproviamo qui no 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 ho paura ho paura quel coso non so cosa era mi sto seguendo credo c'è una master card ma cosa tipo liquido è uscito fuori da una pozza quel coso di sì perché giustamente se il gioco ti vede star fermo troppo per troppo tempo nella stessa nello stesso posto si incazza ancora più alta del livello 2 no dai davvero dai no dai sei la prossima perché no è stato stupido io non ho chiuso le porte ho lasciato troppe porte aperte quello di chissà da dove cazzo è uscito si è fatto tutta la strada dritta perché dovete morire tutti e il prossimo è sedicente vorrei dimora all'inizio mi pare che come nemico ci sia pure il scp con le sembianze del medico della peste come nemico in sto gioco ok questo è l'ascensor di prima ma più o meno uguale a prima sta mappa attenzione livello 1 livello 1 ok si e mi sa che ha ha creato la stessa mappa identica forse qui la stessa identica di shadow no questo è il loop cazzo no ma non eravamo da questo lato per un'altra volta no ok è dentro no senza maschera non possono proprio andarci perché il gas il gas mi fa chiudere prima gli occhi quindi non faccio in tempo a circunnavigarlo e a scappare dalla porta che c'è lì qui in effetti non si capisce se il personaggio è maschio o femmina eh perché quando corre sembra una femmina però quando riprende fiato sembra un maschio ok questa è la stessa stanza identica ok questa è la stessa stanza identica ok questa è la stanza identica ok sei ancora viva lady ma perché io voglio farti fare è il gioco che ti fa fare ste morti orribili non si vede un cazzo ok stai morendo credo no non è vero che loop non si capisce un cazzo mi sa che ho incontrato un scp fatto di maria oddio c'è il mostro minchia t'ho salvata all'ultimo secondo eh vabbè ma io non posso andare avanti così dai non si riprende più ma non si vede niente cazzo vedo solo sagome sta peggiorando invece di migliorare che cosa era successo cosa ho preso sti cazzo di bicchieri si ti devi sacrificare perché non si vede un cazzo mi dispiace devi morire oh mio dio era già qui no aspetta sta migliorando forse ok ok si sta riprendendo si è ripresa all'ultimo secondo si è ripresa all'ultimo secondo ha fatto un colpo di reni dai ci sarà tolto dalle palle da qui proviamo si ok non c'è non c'è non c'è no si è chiusa che morte indegna alla fine meritava di meglio meritava di meglio meritava di meglio tocca sedicente non si per case minchia si è resistita all'scp della droga all'scp 1,2,3 stella e muori su una stanza piena di cazzo adesso vedo sedicente vediamo dove aprivi si dai basta lo sappiamo sta scena non andare via senza di me no dai non vale questo ah posso anche vediamo cosa esce col col map seed buon tino vediamo come crea la mappa no vabbè non valeva quello non era sedicente quello era marihuamba dai hai sofferto meno di tutti sedicente meno tempo di liquid no 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 questa è la randi sedicente vorrebbe morire così questa è la mappa buon tino questa è sedicente nel paese di buon tino tipo paese delle meraviglie creato da buon tino questa porta si è aperta una volta sola solo con me si era aperta mi sa questo è friquetto bene almeno fai una morte originale sed no ancora la droga qui eh ma vaffanculo voglio andare di là io te la senti sedi te la puoi fare sedi no no ho cambiato idea no niente da aspettare che se ne vada da lì si è bloccato il mouse ok gonzalez jim mi è partito uno spruzzo nella mutanda eh madonna è stato creepy perché l'abbiamo visto da lontano e poi si è avvicinato di colpo what scp 1162 no non basta questa carta c'era un scp là dentro eh vabbè eh vabbè dai è apparso mentre stava chiudendo gli occhi è apparso mentre stava chiudendo gli occhi che bastardata ok tocca tocca a me dai nella mappa di lady no perché ci sono alcuni scp utili wanty per esempio c'è l'scp che è una chiave che apre tutte le serrature del mondo tipo passepartout mondiale lo so perché l'altra volta l'avevo trovata e apre anche anche tutte le porte che hanno bisogno della keycard quindi potremmo aprire anche quelli del livello 3 eccetera però dobbiamo dobbiamo trovarla e non so se era quella vediamo quanto duro ma anche questa qui non abbiamo mai provato ad aprire poi solo una volta e infatti è sempre chiusa non è ok adesso che cosa se dormirano in falso che cosa 220 non è No 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 è lì in fondo l'ho visto No Anzi voglio avvicinare Voglio fare il jumpscare Forse riesco a superarlo Vediamo Quanto è stato preso? Ok la maschera antigas Keycard livello 1 Mi ha spaventato troppo Mi ha fatto troppo paura Ok vediamo Quanto sopravvive Ovviamente Lo so Wanti lo so Mi ha spaventato Quella era la mia vendetta Per avermi ucciso nel gas Vediamo come se la cava a Kenino nel mio mondo Forse la difficoltà Cater non mi fa salvare Può essere che sia per quello In caso proviamo a mettere normale Dai Perché io sta versione Non la conosco È completamente diversa Da quella che giocai Lo gioco più la giornata Non più cambia anche la mappa Tipo io passavo sempre per di qua Sempre per di qua io andavo Adesso è sempre chiuso Mai visto sto video qui Tutto nuovo Ok Ok Questo non accadeva da un bel po' Oh cazzo Eh ma io devo passare Per di là No 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 Questo è l'inizio È l'unica via Quella Cazzo No chiuso Bravo Bravo Che nino Bravo Bravo Che palle mi sono andato a chiudere l'unica stanza che non ha un B e... Ok non è vero... Ok non c'è il cata... Ok non è vero... Ok non è vero... È una scultura... Provate a cercarlo nella wiki che questo qui c'è... Mi pare sia il 173... È una scultura veramente esistente e l'hanno trasformata in un mostro perchè era bruttissima... Cazzo ero curioso di sapere cosa c'era qui... C'è il SCP-008 qui... Dimi che non c'è la trapura... Ok... Cazzo ero curioso... Minchia l'inutilità della carta a livello 1 è infinita... Ok... Ok... Un ascensore... È un prione complesso... I campioni sono immagatenati in realtà... Cazzo ero curioso... Ok... È quello che imita la voce... Non c'è... Cazzo ero... Cazzo ero! Sì. Ok, 008 è Ketter. Oh mio Dio, ce n'è un altro. No, è sempre lo stesso. Si sposta pure! E non la tira! Ma come... Come cazza affatto a spostarsi così velocemente? Sì. I wonder what the hell's going on... ...to think... ...today always. I gutta... ...do stud camion... ...non tira... ...to live... ok abbiamo trovato la maschera antigas penso non ci fosse altro lì sotto dai va bene oh mio dio lag troppo 7 fps che succede cosa sta caricando ah no ma non posso restare qua no no è proprio qua che lagga devo andarmene no 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 di nuovo lui no apri ho chiuso la porta ah no era l'ascensore ma lagga troppo no no non voglio morire con il lag fai pietà di me no è lui che fa le aggare ecco chi è non capisco che cazzo sta succedendo guarda cosa fa è baggatissimo sta facendo è rottissimo ed aggiustare questo qui oh mio dio non sono morto ah questo è tipo un altro tentativo ma quindi andando nella macchia nera eravamo morti con lady ah questo è l'ascensore è l'ascensore sta andando un po' diversamente però eh giusto un po' ok devo beccare la porta giusta con Lady ce l'ho riuscito subito a quanto pare no questo è un po' piccolo certo dai che nino non mollare hai fatto tantissimo hai superato pure il cazzo di SCP rosso mutante con la bocca gigantesca non farcela che no ha chiuso perché cammina storto no visto mi fa star storto pure me quindi io non so neanche come commentarle queste cose non guardarlo non guardarlo no micchia più lo guarda più sta morendo resta qui sotto così non lo vedi credo spero minchia non era una maschera antigassa era un misure notturno wow wow sta morendo comunque questo cosa lo sta uccidendo lentamente più passa più perde vita ecco che serve unikit medici sì vabbè ma se va avanti così forse devo chiudere gli occhi quando passa che morto è morto che morte triste perché che morte triste per te ok dai guantino vuole fare un altro tentativo lo so che vuole fare un altro tentativo guarda dove lo mettiamo dentro ok va bene così sei il nostro potere guantino ora comandiamo noi guantino 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 due dai però andiamo sempre più avanti in realtà ma non si può vincere mi sa che sei obbligato a morire in sto gioco non credo si possa finire ma nemmeno corri vuonti oh ecco porca puttana ecco perché non correva perché stavo abbassato no povero Ken l'ho ucciso in maniera stupidissima ecco perché non correva perché stavo sempre accucciato almeno me ne ero accolto ma povero Ken abbiamo fatto morire il nostro uomo migliore che cazzo è quello è l'orsetto di prima escapa 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 guantino guantino no no non cambiamo più difficoltà sono unitati troppo bravi per cambiare difficoltà eh ma c'è il ritardo guanti tocca shadow 2 nella 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 guantina nella mappa guantina no no la mappa guantina non abbiamo ancora visto una mappa di guanti ma tipo gli ultrasuoni ah ma parlavi oh cazzo non avevo capito che era quello lì ma io non sapevo nemmeno che si potesse trovare così in giro pensavo fosse soltanto nei video infatti mi ha fatto strano vederlo lì che sfiga mi spiga tantissimo ma ma il problema non si vedeva qui ho sbaglio che schifo eh oh ci è andata male guanti ci è andata molto male e adesso che palle quando fa così mi sembra che si sia cagato addosso guardalo che schifo inizia malissimo il mondo di guanti è già cattivissimo anzi della guantina vai via sto mt cap sta merda anzi ho paura che sia un oggetto che poi serve l'mt cap non so perché non so perché è il loop questo eh si sempre qua sta adesso figlio di puttana comunque non apre più le porte una volta le apriva non lo fa più anche questa cosa qui hanno modificato oh guarda che lo stanno mettendo alla prova shadow che succede no sono calati gli fps non va bene che è successo? che succede in questa stanza? guarda se guardo la stanza lagga ma l'abbiamo sempre vista sta stanza che succede? boh è un po' da sistemare sta questa versione anche qua no sai perché fa così secondo me perché è una mappa che ho creato io perché ho scritto wantina si vede che quelle custom map fa problemi dovrebbe creare quelle che vuole lui secondo me eh si mi sa che non possiamo più crearle noi le mappe ma vaffanculo però ma che morte del cazzo ma che morte del cazzo eh era un finto ascensore era un finto ascensore mi sa che è un altro scp l'ascensore era tipo un ascensore della morte non puoi fidarti niente eccolo qua 173 eh no è lagga di nuovo proviamo a riavviare tutto se ecco come si salvava però quitti però fai load eh beh comunque fatemi riavviare un attimo il gioco yes allora bisogna creare il personaggio definitivo adesso con questo salviamo quindi si chiamerà li uo la sh shady li guala shady siamo tutti noi insieme non credo che si auto elimini perchè quando muori ti fa fare l'opzione load game questo siamo noi perchè questo è il frutto di tutte le nostre esperienze no? oh cazzo ho dimenticato Kennen nel nome che è stato quello che ha fatto di più in realtà eh sti cazzo scp distributore mi sa di si 294 oh minchia infatti adesso è fluido cazzo eh andava riavviato il gioco quindi se io faccio così vabbè c'è ancora lady togliamone le lady load vediamo Ken si è salvato esatto ah ok è un premio perchè è andato più lontano allora l'abbiamo escluso per quello ok si ricarica perfettamente qui no buono lì oh ho bugato il soldato col mostro ma qui c'è qualcosa perchè noi ce ne andiamo sempre ma che cazzo sta succedendo qui si sono ingroppati va bene ma dai non ero così vicino ah no ok non mi fa caricare no se muori si cancella ora niente niente personaggio definitivo e allora ripartiamo da dove eravamo rimasti ero lontano comunque dal cazzo di tesla lì dom 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 donna quanti frame che ha perso però mi sa che sono appena percettibili con sto ops penso di averli persi quando c'era il lag però non credo ci sia dai penso siano solo così descrittive per farti appassionare gli scp che mettono queste descrizioni non credo che tutti quelli che hanno messo ci siano nel gioco mamma mia lady ci sono andata vicina perché era già aperta perché si è chiusa orca c'è l'ascensore scegli tu Lady ti fidi dell'ascensore o o no veloce però per sicurezza scegli velocemente no ok cos'è stato no non c'era niente eh ma se l'ascensore funziona ci dobbiamo andare per forza poi lì eh prima ha funzionato per esempio ci siamo andati dal mostro rosso quando ha funzionato che è successo ok qui ci arriviamo poche volte c'è sempre la maschera e una tessera non mi conviene scendere c'è qualcosa giù a parte lui mi ha bloccato no non bisogna scendere lì minchia se t'ha struppata proprio tipo intrappolata ti ha fatto sentire rinchiusa prigioniera sua e poi ti ha ammazzato dai buon team è durato è durato poco prima merita un altro tentativo scp35 una maschera bianca da commedia qua c'era scritto la tornata prima per farla non tornare wow cosa brutta vai bontino ce la puoi fare ce la puoi fare bontino noi proviamo tutte le porte poi si aprono bonsi il nostro mi raccomando a your city ok c'è di nuovo l'ascensore tu che scegli ascensore ok mi sa che arriva bontino 4 no è andata bene bontino no devo anche rifare sta merda adesso siamo venuti giù dall'altra parte però stavolta eccolo lì questo non parla ok si chi è questo è l'ascizio 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 minchia se fa ansia sta parte si è l'SGP che parla è quello che imita le voci umane l'avevo muo letto prima non abbiamo trovato niente però perché sei incazzato? è rimasto lì questo è l'altro ascensore mi sa eh si no dobbiamo trovare la maschera o qualsiasi altra cosa abbiamo messo l'abbiamo mancata ok no Show yourself. Sì, ma soltanto una funziona, Wanty. Abbiamo già tirato questa, noi. L'altra non la tocca. Invece l'altra volta avevamo toccato quella. Questo è quello che mi ansia di più perché non capisco il suo percorso. Dobbiamo guardare per terra a vedere se c'è la maschera come prima o qualcos'altro. Ci deve essere qualcosa qua sotto. La mano. Eccola. Ok, visore notturno. C'è sempre visore notturno qui allora. Pure una mano abbiamo trovato. Non so se serve o se serve un troll. Dovrebbe passare per di qua lui, no? Vediamo se viene di qua. Non so se fronte. questa è la parte che mi ansia di più cioè quella che abbiamo superato adesso questa dovrebbe essere easy ce l'hai fatta guantino no penso anch'io serva per le mie no c'è inculati minchia ce l'abbiamo fatta ci è andato vicinissimo ok livello 1 eh ti pareva ok minchia dov'era adesso il mostro di laudi qua? mi sa di la ok si perchè lui esce dai condotti eh ma pure qua ci siamo arrivati una volta soltanto no io non mi fido ad entrarci tu che dici guanti? ti fidi ad entrare lì dentro? cosa hai scelto montino? no penso sia soltanto una stanza per morire no dai non si può entrar lì è da fogli ma minchia ho davvero lasciato aperta sta porta col mostro che è dall'altra stanza sento qualcuno cantare tipo entra pd davvero ok eh baffanculo niente guanti non torno più lì cristo chiudi Ehi! è un altro cazzo di loop no oh cazzo no non viene qua col cazzo che non viene qua ok è una possibilità guantino questa mi inspira morivi lo stesso guantino ma perché è uscito quello lì però non eravamo rimasti fermi niente ho sbagliato questa si ti ho salvato guantino ti ho salvato pd ti ho salvato pd ti sei anche ripreso subito si vede che tu sei abituato non come i redi che rimani in botta per più tempo si ma ti ho portato in salvo nella stanza nella stanza chiusa ma chissà cosa c'è qua dietro c'è un altro ascensore ma questo qui è farloco per forza che dici montino wow ha funzionato c'è un altro ascensore però non abbiamo la maschera eh ma se c'è il mostro qui ci incula il gas ci incula col gas se c'è il mostro o ascensore o gas scegli tu guantino magari non c'è il mostro e passiamo e basta può darsi eh anzi non l'ho visto non l'ho sentito e non l'ho visto quindi potrebbe non esserci in alternativa c'è un altro ascensore gas ok ok non c'era non c'era siamo fottuti non abbiamo manco file niente ci tocca l'ascensore perché 666 ci tocca uno dei tre ascensori che abbiamo visto dite che è random il codice è random sicuramente dai manco a cercare una soluzione vuoi provare a vedere se è random? 3112 ok no però sei ferito eh perché stai zoppicando tipo 6290 2846 infatti li stai sparando a caso o cosa quante cifre ci stanno poi 4 ok allora no non li sta sparando a caso mi sa che li sta leggendo niente Wontino non vuole morire qui però sbrigati che sennò arriva quello bastardo ecco c'è la macchia sta arrivando Wonti tra poco arriva si sta formando se arriva vado nell'ascensore te lo dico già anche perché non ci sono altre strade scappo ok eh ma finché non esce fuori quella testina possiamo star tranquilli eh non era così niente siamo morti? eh non è così Non c'è, non c'è un cazzo, è tutto buio. Per me si è buggato. Salvo e rientro. Si penso sia un bug questo, troppo strano. Secret level. No, ma che fine di merda che fa Wanty se è così. Cioè non muore nemmeno per davvero, ci tocca eliminarlo. Eh no, niente. Ma ho ancora in mente quella stanza strana. Ma dai. Io continuo a correre, ma... Eh no, ma è acceso il visore. Così è acceso. Cioè l'ho provato prima il visore, aveva funzionato se ti ricordi. Bisogna solo equipaggiarlo. Non corre più. Ah ok, perché mi ero abbassato. No, niente Wanty, ti sei buggato. Ho pure pochi fps. Non lo so. Sei in un limbo, Wanty. C'hai provato dai. Lasci il salvataggio lì. Non lo cancelliamo. Sì, ma infatti stava andando bene. Merita un altro tentativo. Ultimo però eh, che è tardi. Mi sa che è questo lo stronzo che ci segue, che esce dalle pozze eh. Mi sa che è 106. Fai scegliere al lady, ok. Ti farà morire adesso, subito. Se aprirà prima o poi dai. Come se l'ha aperta quella. Come se l'ha aperta quella. Ah, era caduto il cadavere, non l'ho manco guardato. Ok, proviamo a passare. Vai. Un altro, minchia. Ma dai, non è vero! Ma lo vedete anche voi che sto lontanissimo. Niente. Oh, sono bugatissimi quei cosi lì. Non è colpa mia, io ci ho messo sull'anima per farlo. Madonna, se ha tanti croni. Ma perché perde frame durante il caricamento? Non ha senso. Sto obs non ha senso. Ma qui cosa c'è che andiamo sempre via? Il nostro non c'è più. Vabbè. Questa è la nostra cetra. Questa è la nostra città. 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 Che paglia ancora No dai di nuovo Che dici lady ascensore O no Chi risponde prima Ok chi risponde prima E se scrive prima Ascensore Niente non è giornata per gli ascensori Non mi ricordo che numero era Mi sa che era shadow 3 Vabbè dai sono le 3.58 Ce ne avanza ancora un altro Adesso magari questo non muore più Questo arriva Alla fine del tunnel Cos'è questo scp un buco? Basta non provo manco più la fila della porta Perché non gli spara Dannazione Si è partito in quarta shadow Ho visto ho visto Non c'è la chat shadow Nessuno leggerà mai Quello che hai scritto Mi dispiace No basta Questa cosa Non ce la faccio più Eh ma devo farlo entrare per forza Oh ma dov'è? Mi è andato? No Oh Maratona fino alle 6 Ma cosa Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Ma ancora? Ma c'è la seconda Minchia Di nuovo lui Quindi adesso è in giro Mi sa Dobbiamo stare attenti Se li incrociamo La volta scelgo io E dico di sì Dico che funzionerà Ok Cosa? Tipo degli svenimenti Che succede? Che succede? Non vedo nulla Ma questo mi sa che sono bug Ma questo mi sa che sono bug Ma che succede? No vabbè No vabbè Non posso andare avanti così Faffanculo No ma lui è un bug dell'ascensore Sono bug Sono bugati gli ascensori Guarda cosa ha causato Questa non è la parte del gioco Dai Vaffanculo E niente dai Facciamo che questo era l'ultimo Vabbè Se Se volete In futuro lo riprendiamo Comunque dai È stato carino Anche questo Da fare Ascensore Un scp Che bagga Esatto Dai Tutti a nanna Adesso Su Buonanotte Ma quale Maratona Sonno Dove è andato Wanty E dov'è Wanty Mica è andato via Non ha scritto niente Si è già addormentato Wanty Entro che Buonanotte a tutti Ma non l'ha scritto Ah ok Sì Vabbè Ma sono passati Quattro minuti Eccolo qua Leggeva l'orsetto Ok Notte Buon Tino Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti